Il sindaco di Corato invita alla cautela. Io trovo un po' troppo leggera questa soddisfazione che leggo sui giornali e nelle interviste del presidente Rossi. Innanzitutto la premessa è che vengano esaminate in maniera attenta e puntuale effettivamente i requisiti che hanno permesso alle aziende di concorrere a questa gara perché è giusto che tutti abbiano le stesse possibilità, gli stessi diritti e quindi questo ovviamente è un auspicio che faccio e che credo che sarà ascoltato. E poi io sui facili entusiasmo di questa vittoria in questo settore specifico andrei cauto. Bene le gare, bene sicuramente il fatto che il servizio verrà migliorato ma attenzione, in questo caso c'è stata una preponderanza dell'offerta economica rispetto a quella tecnica. È giusto guardare ai costi, al risparmio ma molto in un settore come quello del trasporto pubblico lo fa il servizio. Noi rischiamo così di non avere dei punti di riferimento territoriale come abbiamo avuto in questi anni perciò andrei molto cauto fossi il presidente nell'esprimere così tanta soddisfazione. Quindi da parte del sindaco una relazione preoccupata? Molto preoccupata, noi seguiremo molto da vicino questo settore, chiederemo un incontro perché ci sono altri sindaci da quello che ho saputo che mi hanno contattato e sono altrettanto preoccupati di città importanti e quindi chiederemo anche un incontro sia a Ceccarelli che a Rossi perché su questa partita noi abbiamo intenzione di seguirla passo passo perché il servizio che vogliamo offrire ai nostri cittadini passa attraverso questa gara che a mio modo di vedere ha delle difficoltà, io sono molto preoccupato e in parte anche perplesso.